Le notizie diffuse nel pomeriggio avevano indicato l'istituzione della zona rossa cattolica eraclea e questo malgrado nel comune grigentino fosse già in vigore la misura massima della restrizione che sarebbe scaduta proprio alle 24 di questa sera. Ho chiamato l'ufficio regionale competente, hanno già corretto il provvedimento firmato dal presidente Nello Musumeci, ha dichiarato al nostro telegiornale il sindaco Santo Borsellino. Zona rossa a cattolica eraclea che dunque non si ferma e che rimarrà in vigore almeno fino a tutto il 28 aprile prossimo, quindi per poco meno di un'altra settimana. I casi positivi al momento a cattolica sono 67, ma per diversi giorni sono stati ben al di sopra dei 75, situazione che evidentemente rimane di massima allerta nel piccolo comune grigentino. Intanto sono aumentati i contagi in Sicilia, ma sono anche diminuiti i ricoveri negli ospedali e quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.412 nuovi positivi a fronte di poco più di 34.000 tamponi tra rapidi e molecolari effettuati. Il tasso di contagiosità si attesta così sul 4,1%, ci sono stati altri 23 morti e il numero complessivo di deceduti dall'inizio della pandemia è così salito a 5.241. Molto alto il numero di guariti, 949 in un giorno. Per quanto concerne i posti letto occupati negli ospedali, oggi ce ne sono 30 e meno di ieri. Il totale è dunque di 1.244 nelle degenze ordinarie, 4 e meno invece rispetto a 24 ore fa i posti letto occupati in terapia intensiva, che sono 178 anche se con 11 nuovi ricoverati. Non vengono ritirati i rifiuti delle persone contagiate da Covid, lo denuncia oggi il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo. Ci sono inevitabilmente delle lamentele. Il primo cittadino ha spiegato che la raccolta di tali rifiuti, inevitabilmente classificati come speciali, viene effettuata sul territorio provinciale esclusivamente ad una ditta incaricata dall'ASP di Agrigento e dunque il problema non è di competenze del Comune. Peraltro, aggiunge Matteo Ruvolo, le utenze positive a cui l'azienda in questione deve ritirare i rifiuti non possono essere segnalate dal Comune o da privati cittadini, ma unicamente dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, a cui più volte l'amministrazione comunale riberese ha avanzato richieste e sollecitazioni affinché il ritiro venisse effettuato almeno due volte alla settimana e con la doverosa regolarità, cosa che evidentemente al momento non accade.